I navigator? È meglio del gratta e vinci! Sì, vi starete chiedendo che cosa stanno facendo i circa 3.000 navigator che in questa fase dovrebbero cercare lavoro alle persone che sono percettori del reddito di cittadinanza. Stiamo parlando di 2.800.000 persone. Boh, sicuramente stanno percependo uno stipendio ogni 27 del mese. Sì, perché voi pagate per loro 1.700 euro netti più i 600 euro per l'emergenza Covid, quindi oltre al danno, la beffa. Insomma, se diventi navigator è molto meglio che essere premiati al gratta e vinci. Sì, perché veramente hai vinto il terno all'otto, amico mio! E in più, i centri per l'impiego sono ancora chiusi causa Covid, mentre giustamente aprono le discoteche. Ma quanto abbiamo pagato per l'applicazione che non esiste? 25 milioni di euro! Beh, se non l'avessimo capito in questi anni di governo, adesso abbiamo la certezza che anche Giggino comprende che si tiene famiglia. Ma non basta tutto questo! Sì, perché Giggino ha voluto anche un super consulente, super super super, per essere traghettatore dei traghettatori. Infatti Giggino ha scelto questo Mimmo Parisi alla guida dell'Ampal, l'ente che doveva gestire i famosi navigator. A questo Parisi, lo dice il Corriere della Sera, sono arrivate numerose lettere da parte degli enti preposti che gli dicono, ma come mai non hai rendi contato per bene i costi che hai avuto? Stiamo parlando di 160 mila euro. Eh sì, perché il signor Parisi è andato avanti e indietro Roma-Stati Uniti per 71 mila euro. Ha viaggiato in Italia con un'auto onolo con autista per 55 mila euro. Ha affittato un appartamento ai Parioli, zona rinomata di Roma, per 32 mila euro. Ha speso altri 5 mila euro per spostamenti in Italia e per pranzi e cene ha speso ben 3 mila euro. Buon appetito! Ancora una volta Giggino dimostra che la casta fa schifo, ma se è la casta degli altri! Ma ancora peggiori sono le giustificazioni. Mico posso andare a lavorare a piedi, dice Mimmo Parisi. Se i 5 Stelle fossero coerenti, per risolvergli il problema avrebbero potuto benissimo comprargli un bel monopattino. E invece vai di auto onolo con autista. Certo, in un paese normale, se non rendi conti i soldi pubblici, li dovresti dimettere. E lui che cosa ha risposto? Dimettermi? Ma siete pazzi? No, gli italiani non sono pazzi. Sono pazzi quelli che vi hanno messo lì.